Chi ha detto che non vi stiamo usando? Comunque, siete al sicuro. E lo è anche il diaio. Ho visto di persona le... Ci siamo, siete al sicuro adesso. Ia ue... Ola! Rodolfo! Mirosita, estas bien? Si, mi vida. Papa, in che guai oggi hai trascinato, vecchio? Si appena tolto dai guai, sai? Non aspettarti che ci creda. Voi, Yankee, non fate altro che portare problemi in Bolivia. Sarò troppo giovane per aver marciato coi cocaleros. Ma ho visto le cicatrici di quelli pestati. Ma piantala. Basta con queste stronzate anti-americane. Non siamo il nemico. Ma non siete certo, amici? Calma, dai. Ho fatto patte con molti diavoli nella mia vita. E l'ho sempre fatto per proteggere la mia famiglia, per il bene della mia gente, per il bene dei cocaleros. Adesso ho fatto un patto con te, agente Bauman. So che me ne pentirò, ma per ora ci permetterà di sopravvivere. Bauman ha quello che voleva? Non è contento nessuno, ma sembra di sì. Ingrati. Lo sanno che gli abbiamo salvato la vita, vero? Io so solo che il cartello farà fatica a produrre cocaina senza egliaio. Il re... Non si sfamano gli affamati senza cibo. Non si curano i malati senza medicine. Non si soddisfa una domanda senza prodotto. Con la produzione di cocaina in ginocchio, la nostra fetta di mercato diminuiva a vista d'occhio. Abbiamo aumentato i prezzi. Una soluzione temporanea. Avremmo dovuto importare dal Peru e dalla Colombia. Investire più in metanfetamine e MDMA. Un'impresa lunga e costosa. Ci sarebbero voluti anni. Non avevo scelta. Dopo troppo tempo senza paga, i lavoratori sarebbero stati incontrollabili. Ma i più grandi sconfitti erano i boliviani. Non avevano più lavoro. Non sapevano come supportare le famiglie. Potevano solo aspettare e vedere chi sarebbe stato a prendersi le piantagioni di coca. Questo non è affar mio. Ricevuto. Grazie. 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 Grazie.